Fabio, ti ho portato quello che mi hai chiesto. Ah, grazie, gentilissima. Ah, sì. Adoro, vieni da lavori, allora. Direi tu, ma io sono un professionista. E possiamo leggere il contenuto di questo foglio? Non credo le capireste. Proviamoci. Lascia stare, non su cosa può voglia. No, no, aspetta un attimo, scusa. Se sono cose che riguardano la redazione, a noi ci interessano. Se invece non la riguardano, non ti cacciai via e fuori, perché ti pago per stare qui. Veramente, l'accordo era per vita alloggio a Dimaro. Ma visto che stiamo qui, stiamo lavorando gratis. Ma bo, tu stati zitto e fai la segretaria aduratrice e compiacente del capo, va bene? Concetto vagamente maschilista, ma va bene. Andiamo a vedere che stai scrivendo. Koulibaly, Meret, Zelischi, Insigne. Ma che calciomercato è? Questi sono i nomi dei calciatori del Napoli. Ma forse hai avuto qualche scopo, qualche notizia importante, qualche offerta irrinunciabile. Direttore, veramente? Eh? Questa è la mia lista di fan da calci. Eh beh, tiene tutto il gioco di ruruna. Ma al cuore non si comanda.